La prima relazione prevista è quella del professor Piga, che abbiamo già avuto modo di sentire in altre occasioni. Professore, so che lei ha anche delle slide, giusto? Se le possono? Sì, ci attrezziamo, però io sempre a dieci minuti darò il segnale. Se mi fanno i segnali di fumo. Sì, farò i segnali di fumo. Grazie Presidente, è un onore essere qua, grazie per l'attenzione. Mi perdonerete, ma per chi si occupa da dieci anni di appalti pubblici e corruzione, questa occasione di confronto, direi straordinaria e unica, se uno guarda il passato dell'ultimo decennio, è troppo ghiotta per me per non approfittarne, per ricordare, non so se le slide ci sono Presidente, le metteranno, per ricordare quali sono le grandi sfide irrisolte che spetta al legislatore risolvere, ben al di là del mero recepimento delle direttive, perché se non affronteremo queste grandi sfide irrisolte, saremo qua ancora dopo la direttiva, dopo un paio di anni, a chiederci come mai questa nuova direttiva non ha garantito certi risultati. Mi tratterrò poco sulla direttiva, ho soltanto a dire due cose, per favore facciamo come i britannici, non perdiamo tempo, recepiamola immediatamente, abbiamo messo una marea di anni a farlo l'ultima volta e per favore quando discuteremo di come recepirla non mettiamo insieme soltanto una squadra di giuristi, perché una cosa ormai il mondo l'ha capita, che le leggi sugli appalti si scrivono bene se si scrivono insieme tra giuristi, economisti e tecnici. Perché parlo di un'occasione epocale? L'avete sentito quel numero? Io vorrei che restasse bene nella testa di tutti quel 15% di prodotto interno lordo, non siamo abituati a parlare, quando parliamo di finanza pubblica, che il 15% della spesa è gestito tramite appalti pubblici. Se cominciamo a pensare in questo modo, cominciamo a pensare che ci sia bisogno di una strategia complessiva e la domanda chiave è chiedersi quale sia. Abbiamo bisogno di dati per parlare di cose in maniera intelligente, purtroppo questo è un problema, abbiamo pochissimi dati su che cosa sia inefficacia e inefficienza negli appalti pubblici, per fortuna il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Istat da un po' di anni siedono su un database importantissimo che è stato sfruttato per ora soltanto da tre ricercatori, London School, Tor Vergata, Columbia University ed è stato pubblicato sulla rivista più importante al mondo per noi economisti, che hanno usato un database, ripeto, disponibile ma mai usato dalla politica, su tutti gli acquisti di beni e servizi. E cosa scoprono questi ricercatori usando bene i dati con tecniche che sono importabili? Che ogni giorno lo stesso computer viene comprato da due amministrazioni diverse a prezzi completamente diversi, si chiamano sprechi, facendo la somma di questi sprechi, cioè quanto riusciremmo a risparmiare se tutti comprassero al prezzo del migliore e stiamo parlando soltanto di sprechi di prezzi negli acquisti di beni e servizi, quindi non stiamo parlando né di Expo, né del Mose, né stiamo parlando di sprechi di quantità, quindi questi numeri che vedete sono barriere inferiori, 2% di prodotto interno lordo, 30 miliardi di euro. Questa è la dimensione dello spreco con cui abbiamo a che fare come minimo. E cosa scoprono anche questi ricercatori? Scoprono che a loro dire l'80% di questi sprechi non sono dovuti a corruzione, solo il 20% è dovuto a corruzione, l'80% è dovuto a incompetenza presso le stazioni appaltanti. Questo risultato è stato dibattuto nella comunità tantissimo, in realtà a me non interessa sapere se è incompetenza o corruzione, semplicemente per una ragione, perché corruzione e incompetenza si sostengono a vicenda, sono come il gatto e la volpe. Se uno è forte, l'altro è forte. Se la corruzione è forte, perché mi devo formare e diventare competente? Là dove c'è incompetenza è molto più facile per la corruzione passare. Capite però la potenza del messaggio di policy. La corruzione è dura da sconfiggere, perché la corruzione è un fenomeno culturale. Ma se cominciamo a battere non il gatto ma la volpe, se cominciamo a premiare le competenze, creando come si sta facendo in una marea di paesi europei a partire dal Regno Unito, quella che tutte le aziende hanno, una famiglia professionale dei responsabili acquisti, strapagato per il suo raggiungimento di obiettivi di performance, voi capite bene che chi è strapagato non ha nessuna ragione per corrompersi. Ci sono due altri importantissimi gatto e volpe che si sorreggono a vicenda, si chiamano corruzione e collusione. Non vi sto a dire perché, perché non ho nel tempo, ma lo sapete benissimo. Là dove la collusione è forte, la corruzione è forte. Là dove la corruzione è forte, la collusione diventa più forte. E anche qua c'è un risultato molto importante. Vuoi combattere la corruzione? Beh, la puoi combattere ancora meglio se cominci a combattere fortemente tutti i fenomeni di collusione. Il che significa che nella governance degli appalti pubblici deve entrare un attore che finora non è mai entrato. Si chiama l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Questo è quello che ha fatto l'autorità garante della concorrenza e del mercato in 22 anni di vita. Ha aperto 20 procedimenti per cartelli negli appalti pubblici. A dire della stessa autorità garante della concorrenza e del mercato troppo pochi non abbiamo le risorse. Chi vuole lasciare sola l'autorità garante della concorrenza e del mercato finanziariamente, operativamente e istituzionalmente sta facendo un favore non soltanto alla collusione ma anche alla corruzione negli appalti. L'autorità garante si sta dando un po' da fare. Ha lanciato un vademecum che chiede alle stazioni appaltanti di segnalare i casi sospetti relative alle sole gare sopra la soglia comunitaria. Perché dice solo sopra la soglia? Perché non ha ovviamente le risorse per analizzare altro. Ma vi posso assicurare che nessuna stazione appaltante chiamerà mai l'antitrust per dirgli che ha un sospetto di un cartello. Primo perché i cartelli non si vedono dalla singola stazione appaltante. io vado a Palermo, tu vai a Milano e ci spartiamo il mercato. Io vado oggi e tu vai domani. Le stazioni appaltanti queste cose non lo vedono e per di più il loro compito è assicurare che la domanda pubblica sia soddisfatta, non denunciare i cartelli. Il che significa che l'autorità garante deve essere responsabilizzata in toto se vogliamo abbattere quel 2% di prodotto interno lordo di cui vi parlavo prima. Ci sono mille cose che rispetto al resto del mondo non stiamo facendo, guardando all'esperienza internazionale, per rendere l'antitrust capace di generare denunce e rendere i cartelli più instabili. Non le sto nemmeno a dire, ma sono tutti programmi di fatto di protezione che incentivano i membri del cartello a denunciare il cartello stesso. Qui la legislazione potrebbe fare tantissimo e facciamo estremamente poco. Negli appalti pubblici c'è un problema ulteriore perché il cartello è un reato turbativa d'asta e chi denuncia il cartello a quel punto, anche se al riparo della sanzione amministrativa, non è protetto dalla sanzione penale. E voglio ricordare il rapporto del Comitato dei Saggi presieduto da Garofalo. C'è qui credo Bernardo Mattarella che dovrebbe venire. La prima versione diceva diamo il 20% della mazzetta a colui che denuncia l'atto di corruzione. Oggi li chiamiamo corvi, li chiamiamo continuamente in prima pagina dei giornali corvi e non eroi e non gli garantiamo nessuna protezione. Nei paesi come gli Stati Uniti dove si combatte la corruzione negli appalti queste persone vengono non soltanto strapagate ma straprotette perché sono le persone dove c'è il più alto tasso di suicidio per la pressione che ricevono una volta che hanno fatto la denuncia. Voglio far vedere qui due vecchie slide. Dico vecchie, mi fa piacere dire vecchie perché le ho presentate soltanto quattro mesi fa e sembra che il mondo sia completamente cambiato. Ecco quello che raccomandavo che si facesse nella governance degli appalti, che si mettessero insieme per combattere corruzione e collusione e il terzo gatto e volpe è ovviamente la mafia. Autorità Antitrust, Guardia di Finanza, DIA e ANAC. Prendo con grande gioia che l'ANAC finalmente riesce a dialogare perlomeno con la Guardia di Finanza e abbia avuto un minimo di risorse rispetto ai 12 dipendenti che aveva quattro mesi fa. Su competenza e corruzione auspicavo che l'autorità dei contratti pubblici e l'autorità nazionale anticorruzione si unissero e questo è successo e questo è anche un grande risultato e poi auspicavo che tutto questo entrasse in dialogo con Carlo Cottarelli e la Spending Review e che fosse tutto coordinato dal nostro Primo Ministro. Devo dire che sto vedendo dei segnali positivi in questo senso e questo non mi dispiace ovviamente anche se va rafforzato. Avete visto però che ho lasciato in rosso, e vado a chiudere, la questione di cosa fare con la governance delle stazioni appaltanti. E lo dico questo perché ho il terrore, io sono un ex presidente della Consip e quindi forse un po' di queste cose le ho vissute anche commettendo una serie di danni io stesso, c'è nel mondo, soprattutto in Europa, scusate non nel mondo, in Europa, una grande tentazione giustificabilissima, quella di centralizzare gli appalti. Perché? Perché si pensa che si ottengano economie di scala ed ecco che abbiamo raggiunto i risparmi per stare dentro il fiscal compact. La stessa Commissione europea nella direttiva dice chiaramente, attenti però, se centralizzate lo dovete fare dalla mattina alla sera pensando alle piccole imprese, perché la prima cosa che salta quando centralizzate sono le piccole imprese. Devo dire che io non credo a una soluzione proposta dalla Commissione europea, che è quella di dire per aiutare le piccole imprese fate i lotti. Chiunque sappia che cos'è una piccola impresa, anche se si fanno 15 lotti, sanno che la piccola impresa non vincerà mai quando sta con la grande e che quei 15 lotti saranno uno stupendo esercizio per due minuti, per le 15 grandi imprese per spartirsi quel mercato. E voglio anche ricordare a tutti cosa è successo a Expo, la lettera del presidente del Lancio che ha ricordato a tutti, guardate come avete fatto queste grandi gare con delle belle soglie di fatturato che non permettono alle piccole imprese di fare un lavoro che potrebbero fare. Però vorrei ricordarvi che in tutto il mondo, meno che in Europa, si chiamano Stati Uniti, Cina, India, Brasile, Sudafrica, in gara, quando si va in gara d'appalto, non si mette mio figlio di 14 anni, grande corridore dei 100 metri, a fare una gara con Usain Bolt, perché mio figlio di 14 anni, bravissimo a fare i 100 metri, non vincerà mai la gara dei 100 metri con Usain Bolt, anzi peggio. Mio figlio se continuerà a essere messo in gara con Usain Bolt, deciderà di smettere di correre e di fare le gare di 100 metri. Gli Stati Uniti sanno bene che per far crescere un vivaio giovane di grandi atleti c'è bisogno di riservargli delle gare e riservano il 25% degli appalti pubblici alle piccole in nome della concorrenza. Questa è una battaglia che va fatta in Europa. Guardate i dati che sono usciti adesso dall'ultimo rapporto fatto per la Commissione europea da una casa di consulenza e chiudo Presidente. Questo vi fa vedere la differenza in Europa tra il peso che hanno le grandi imprese e le piccole imprese nell'economia e il peso che le stesse hanno nelle gare degli appalti pubblici. Le grandi imprese generano il 42% della ricchezza di un Paese, le micro imprese generano il 21% della ricchezza di un Paese. Negli appalti pubblici le grandi vincono il 71% della domanda pubblica, le micro imprese vincono il 4% della domanda pubblica. Quella differenza 40-70 è una dimensione della discriminazione che avviene ogni giorno sui mercati della domanda pubblica rispetto alle piccole imprese. Trenta vi sembra tanto? Trenta è una media. Il Paese che più discrimina le piccole imprese nelle sue gare, dopo Portogallo e Grecia, è il Paese che vive della ricchezza delle piccole imprese, si chiama Italia. La discriminazione nelle gare di appalto rispetto alle piccole imprese, la differenza tra il peso delle piccole imprese nell'economia e il peso delle piccole imprese nelle gare d'appalto è del 47%. Chiudo dicendo semplicemente che in tutto il mondo ci si sta muovendo per una governance che non centralizzi, che razionalizzi, e certamente non voglio dire che il numero di stazioni appaltanti che abbiamo adesso è quello corretto, ma dico di farlo con le pinze, questa razionalizzazione, e soprattutto di fare come si fa in tutto il mondo, di dare a ogni singola stazione appaltante un obiettivo di performance a due o tre anni e premiare tutte le stazioni appaltanti che riescono a raggiungere questi obiettivi che sono assolutamente oggettivi. Come si fa? Come si fa per riuscire a catturare quel 2% di PIL di risparmi minimo? Si riempiono di soldi le stazioni appaltanti, si danno 2 miliardi di euro, 2 miliardi di euro per pagare i migliori professionisti al mondo per lavorare nelle stazioni appaltanti, gli si fa diventare come una carriera come diplomatici e magistrati, così non si corrompono certamente più, e quei 2 miliardi di euro generano perlomeno quel 2% di prodotto interno all'ordine di risparmi. Se questa è una sfida che vogliamo prendere, professionalizzandoli e pagandoli per la loro professionalità, allora le direttive europee funzioneranno. Senza questo le direttive europee staremo qui tra tre anni a fare un convegno e dirci come mai continuano gli sprechi nel mondo degli appalti. Grazie. Grazie professore.